Ciao, come stai? Andiamo a prendere? Certo, andiamo, andiamo. Oddio, che è successo? Mi ha lasciato. Mi ha lasciato. E pensate che mancavano solo tre giorni al nostro primo anniversario. Povera piccola, ma non è lì che sono staventata? Sì, 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 dammi retta. Cioè, che quello domani tu richiamano appena si rende conto che lo vedevi la storia che hai fatto. Ma sì, stai raccontando... No, 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 no. Vieni qui, vieni qua. E pensare che tu voleva fare già da sei mesi? No, sì. E ti hai sentito morire quando hai riportato la storia? Ma cosa ti va? Vieni qua, dove vai? Vieni qua. E te lo sai, è tipico di nuove donne. E ti sei fatta detenere troppo disponibile. Ma ancora non hai capito? Giusto, è il classico spagnolo che non è disponibile. Vieni qua. No, no, allora, secondo me si dico, però non è così. Cosa? Il vero amore e dieci comandamenti. Certo, allora. Quarto comandamento. Sei sempre aperta alle possibilità dell'amore. Perché i limiti sono l'indici dell'amore. Allora, Jane, ascolta. Questo libro è solo propaganda matrimoniale. Legarsi rimane sempre e comunque un limite. Tu, tu, tu devi imparare a difendere. E tutte quante ci ha capitato tante volte e che ci hanno raccontato perché noi gliel'abbiamo servito. Sul piatto d'argento. La migliore difesa. Una buona offensiva. Eh, sì. A me non piacciono questi giochetti. Sì, diciamo, qui non si tratta di fare dei giochetti. Qui si tratta di pura sopravvivenza. Perché? Cioè, tu non puoi sempre buttarti nella mischia senza alcuna protezione. Ancora non hai capito come funziona. Quelli ti fanno a pezzetti. E basta cercare questo uomo a lunga conservazione. Qui, cioè, serve l'uomo. Usa e getta. Che magari con il tempo, cioè, se ne vale la pena. Sarà l'uomo a lunga conservazione. Però nel frattempo vi sarete tanto divertiti. Giusto, ma non è così tanto grave questa cosa. Non è grave. Devi dare un po' una mossa. A proposito di... No, 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 no. Dai, dai, dai. Stop. Brave. Brave.